Amici delle case naturali, oggi inizio a ristrutturare questo edificio a schiera, mi trovo su in copertura, anche questa copertura vedete lo stato in cui versa, andremo a rifarla completamente con una copertura isolata in fibra di legno, spessore all'incirca 22-24 cm e poi qui sopra andremo a mettere i pannelli fotovoltaici in modo da sfruttare l'energia solare. Questa sarà una casa completamente elettrica, anche il riscaldamento sarà elettrico e utilizzando appunto l'energia del sole. Tutte le parti nuove verranno realizzate in legno, come i solai qui sotto e i materiali che andiamo a utilizzare per l'isolamento termico sono sempre la fibra di legno, cioè sempre isolanti più possibile naturali e senza sostanze nocive, soprattutto per gli occupanti. Ecco, questa è per inquadrare come sono le coperture senza manutenzione e poi vedremo man mano che il cantiere proseguirà come andremo intervenire su questa copertura. Un saluto da Nicola Preti e al prossimo video. Ciao!